Gli orologi delle nostre torri insegnano lo scorrere del tempo, lo so già a cosa stai pensando. Da quando è incominciata la quarantena nelle nostre città il tempo sembra essersi improvvisamente fermato. Sotto di noi spazi silenziosi e deserti. E' sempre questo silenzio che ci fa improvvisamente accorgere del rumore delle foglie, dello scorrere dell'acqua e delle fontane. Guardala dall'alto la nostra Romagna. Che bellezza. Le strade, le piazze, le spiagge, i musei, le chiese. Bella da far stringere il cuore. Bella da fare invidia. Siamo abituati alla vita che pulsa, persone sempre in movimento, città che non si fermano mai. Fissiamo questi momenti e facciamone tesoro. Sono già storia. Guardiamo avanti. Torneremo ad essere la Romagna ospitale e della dolce vita. Come sempre. Riprenderemo a muoverci e a vivere le nostre città, a lavorare, a divertirci, fare l'amore, a ridere. Perché siamo romagnoli. Apprezzeremo ancora di più le cose belle che abbiamo. Una cosa dico belle. Bellissime. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.